L'iniziativa è voluta dalla Società Italiana di Studi di Scienze del Turismo, l'Università di Teramo ovviamente, e la rappresentanza dei tre club della provincia di Teramo del Rotary. Quindi la presenza congiunta oggi vuole essere proprio un messaggio al territorio, ma anche ai nostri ragazzi che oggi ci hanno onorato della loro presenza per conoscere anche quella che è la nostra offerta formativa. Un'offerta formativa che prevede nell'ambito degli insegnamenti economici un indirizzo turistico, dal titolo proprio Turismo al Territorio. Io in qualità di rappresentante e delegato per la Regione Abruzzo della Società Italiana di Scienze del Turismo ho voluto proprio questo incontro per far conoscere proprio quelle che possono essere le opportunità per i nostri studenti. Il turismo, si sa, ha diverse sfaccettature e richiede diverse competenze. E proprio questo abbiamo cercato di fare, richiamare le diverse competenze. In primis abbiamo chiamato Emilio Becheri, il responsabile del rapporto del turismo italiano da oltre 20 anni, che ci ha un po' relazionato su quella che è l'esperienza e su quelle che sono le emergenze del turismo italiano. L'obiettivo è quello poi di favorire sempre una crescente osmosi tra il mondo della scuola, il mondo dell'università, il mondo dell'impresa e ovviamente il nostro Ateneo.